Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi siamo nell'episodio 30 Molti di voi magari si aspettavano una mappa in descrizione nel trentesimo episodio Ma no mi spiace dovete aspettare ancora un po' prima perchè voglio fare ancora delle cose Secondo perchè appunto voglio rilasciarla per un'altra cosa speciale che non vi spoilerò Si l'avete visto già, almeno alcuni due l'avevano già visto Qua c'è un villaggio ragazzi infatti nello scorso episodio avevo detto che sarei andato a cercare una giungla E appunto andando a cercare una giungla sono molto molto distante da casa Sono circa 1300 blocchi da casa E niente ragazzi appunto sono molto distante da casa ho trovato questo villaggio E ho deciso di andare a farci visita Andando a far visita a questo villaggio, beh avete visto anche voi tantissimi cavalli Ho deciso di appunto cominciare a prenderne uno A cercare di domarne uno perchè quello che avevo prima era morto Adesso sto cercando un villager tipo questo perchè ho raccolto anche tantissimo grano E finalmente dopo tanti episodi che aspettiamo possiamo pigliarci i nostri bellissimi smeraldi Qua fuori c'è un cane cabaia lo so ma ci sarà sempre E' la nostra rovina quel cane Ok Questo qua ha finito gli scambi Poi altri che vogliono Uh tu stai elaborando una nuova offerta Stai confabulando qualcosa Ah questo lo voglio si il melone Perfetto E poi tu cosa Anche tu ma tu sei un grande tu fai pure gli sconti Grandissimo Me ne manca un po' di grano ma va bene Qua come vedete ho impostato una piccola zona di chest e colletto Ma che lascerò qua appunto perchè tornando indietro ripasseremo dal villaggio E infine ho cercato di domare quanto più Quanti più possibili cavalli Tu sei un altro ancora Oddio Te sei un grande Ho capito Ti ho praticamente sbloccando un nuovo scambio si è di nuovo sbloccato lo scambio del grano Fantastico Potrebbe essere una buona idea Cioè potremmo tenerti d'occhio te Comunque questi qua moda della storia sono i cavalli migliori in assoluto Sono i cavalli più forti che io abbia trovato Questo qua è il cavallo con diciamo le statistiche più equilibrate Infatti è velocissimo salta molto e ha tanta vita come vedete Questo invece è il cavallo con più vita in assoluto E lo voglio assolutamente perchè voglio farlo riprodurre Voglio farlo riprodurre questi due cavalli insieme Oddio Zombie No non è il momento Direi che è ora di partire Mettiamo la sella al mulo Si lo so ho parlato fino adesso di cavalli epici E vado a scegliere il mulo Perchè si rivelerà la scelta migliore Il mulo Semplice perchè il mulo Oddio qua buco il carino di zombie Perchè il mulo Può trasportare delle cose Quali possono essere le casse Oddio perchè sono sceso dal mulo Infatti qua con me doveva avere una cassa Eccola qua Adesso la prendo e vado a metterla sul mulo Perfetto Così adesso cliccando con la E possiamo avere un inventario in più C'è anche un ferramenta qua Che mi ha dato un bel po' di cose Quali armatura Diamante A proposito qua ho pure trovato un po' di minerali Perchè qua c'è un canyon Lo so è molto più lento il mulo di un cavallo Però può portare la roba ragazzi E per le esplorazioni Un mulo è sempre la scelta migliore Logicamente quei cavalli non è che non li prendo Li prenderò ma in un altro momento Qua c'è un canyon Come vedete Aspettate forse è meglio farvelo vedere di qua Perchè lì a rischio di cadere Un canyon molto grande Molto molto grande Oddio Guardate che roba L'ho già esplorato in una piccola parte Ma più che tutto mi sono concentrato Sulla ricerca del cavallo migliore Ho trovato quei due cavalli lì Oddio Stavo per cadere Vorrei giusto farvi vedere Quanto sono buoni Quei cavalli Non da mangiare Ma quanto sono buoni nel senso di forza Ebbè quello con tanta vita È un cavallo qualsiasi Solo che ha tanta vita Mentre l'altro Aspetta che ti darò un secondo la sella Questo Ha le statistiche Decisamente superiori a tutti gli altri Perchè oltre a tanta vita Corre velocissimo Guardate no Sta correndo Forse non si vede molto Ma Sta andando decisamente più forte Degli altri Oddio Stavo per cadere dritto nel canyon Mamma mia Ho fatto una schivata Di quelle Una frenata di quelle assurde Ragazzi E anche il salto Oddio Non nelle coltivazioni Ma riesco a correre tranquillo Un secondo E anche nel salto È il migliore Sì C'è pure della lava Che mi aspetta Boh non lo so Non si può correre Ho capito Ragazzi Andiamo a posare subito il cavallo Che facciamo solo dei danni Ho capito E E niente Comunque è la bestia Questo qui è il Resoconto finale Il mulo Ne ho fatto che prendere uno Ho guardato più che tutto La velocità Perchè ne avevamo già uno a casa Con tanta vita E Sì Per chi non se ne fosse accorto Sto cercando di trovare Tutti gli elementi migliori Per poter Creare Il cavallo migliore E Facciamo una cosa Ti lascio A te l'arm No l'armatura Non te la lascio Oddio Sono glitchato in un blocco Devo Allora dov'è il mulo Facciamo così Tacchete Ok Vai Via Ok Perfetto Direi di uscire ragazzi Ok Mi fate uscire Quanti siamo qua dentro Oddio c'è una festa Comunque se il mulo Non è un gran che Però ripeto È il meglio Che possiamo Avere per ora Mi segno un secondo Le coordinate del villaggio Aspettate Allora Com'è che faccio così E così Allora Le coordinate del villaggio Sono Questo qua Vecchissimo Da cancellare Allora 200 E 2142 Siamo Molto più distanti Di quello che pensassi Da casa Ragazzi Come non detto Siamo molto più distanti Siamo Quasi 2000 Blocchi da casa Perché casa nostra Se non sbaglio È Meno 700 E 300 Si lo so Le sono ricordate Sono un pro Ok si Questo qua indicativamente Sono le coordinate di casa nostra Oddio Siamo Molto Lontani Decisamente siamo 2100 blocchi Distanti da casa Mamma mia Comunque E avere la lentezza del mulo Potrebbe anche Rivelarsi Un vantaggio Perché Diciamo Moriremo Meno Tra virgolette Perché Tipo qua c'è la lava Se andiamo con un cavallo 100 l'ora La lava non la vediamo E ci vogliamo dentro Col mulo Andiamo un po' più piano È sempre È sempre più veloce Di una corsa E Però non ci vogliamo dentro Niente ragazzi Direi che Prima di arrivare a casa A proposito Ho anche trovato le carote Non so se ve lo fate vedere Eccole qua Le carote Finalmente Finalmente le carote Quanto ci servivano Qua ci sono poi dei lupi Come vedete Anzi Già che ci sono Giusto per Lo so che ne ho già a casa Ma un lupo Me lo piglio Ok Due Facciamo due Facciamo due Va Ok Facciamo tre E qua tutti quanti Con un colpo Li sto prendendo Anche te Dai Dai No Maledetto Va bene Va bene Così così Li porto al villaggio Li lascio nel villaggio Ma si dai Li porto al villaggio Ragazzi Nel frattempo Faccio questo Primo piccolo stacco Perché appunto Comincia il mio viaggio E questo villaggio Ci tornerò per forza Perché ho cavalli Cani Ho di tutto In quel villaggio Ho anche il letto E le casse Ho un bel po' di roba Quindi ci devo tornare Le coordinate ce le ho tanto Quindi Direi che faccio questo Primo piccolo stacco Che le coordinate Le ho segnate Giuste E niente Quindi ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Sono penso Nella situazione Peggiore Che ho abbia mai vissuto Sono caduto In un canyon Al dir poco enorme Con l'asino Meno male Che c'era quest'acqua Che non mi ha fatto morire Ragazzi Meno male E l'unico problema Che se non mi ha ucciso l'acqua Adesso mi infiderà per forza Qualche altro mob O qualcosa del genere Perché qua Veramente Guardate Li sta bruciando tutto Perché qua c'era pure Lava Mamma mia Oddio E asino E allora Dobbiamo parlare un secondo Di te Dobbiamo separarci Carosinello Sì Penso che io e l'asino Ci dobbiamo separare Perché qua Si mette male La situation Quindi carosinello Ci dobbiamo separare Eh sì Lo so E' dura E' dura Ma dobbiamo separarci Oddio ragazzi Sono sincero Non credo che usciva vivo Da sta cosa ragazzi Perché Ho viaggiato Ho viaggiato Oh c'è poi dell'oro Che prenderò assolutamente Ho viaggiato veramente Veramente tanto ragazzi E con veramente tanto Credetemi Ho viaggiato veramente tanto Sono a Oddio Sono qualcosa come 2.000 5.000 blocchi da casa 5.000 blocchi da casa Ragazzi E qua ho detto tutto E' qualcosa di Assurdo Come distanza E' No Non credo solitamente Di farcela Non credo proprio Oddio Sarà un bel casino Qua ci sono anche Di minerali Che vorrei prendere Ma non credo che lo farò Perché dovrei risalire Io prima di tutto Non so se avete visto Comunque Nello spezzone Cioè nel taglio Ho inserito alcune Delle scene Dei paesaggi più belli Che mi sono Capitati davanti E adesso qua Io non so come fare Perché qua E' bruciato tutto Ok Mamma mia Ragazzi Spengo tutta la lava Assolutamente E' la prima cosa Che posso fare E che devo fare E l'asino Mi sa che ci rimane Qua sotto Perché riportarlo In superficie Credo che sia impossibile Però per evitare Di andarmi a Cercare delle rogne Con dei mob Magari Uccidiamoli Va E non facciamo Nient'altro Eh no ragazzi Bellissimo Tutto bellissimo Ma Qua io ci devo Devo scappare Là c'è pure un creeper No no Guardate là Devo per forza Andarmene Eh si E devo lasciare qua Il mio caro amico E' stato bello Magari un giorno Tornerò Mi spiace Però ti devo lasciare lì Ragazzi Da adesso in poi Siamo pure a piedi E non sarà Per niente facile Perché sono 5.000 Blocchi da casa Credo di aver esagerato Stavolta Credo proprio di sì Allora mi serve la sella Il diamante Te lo potrei anche lasciare Alla fine amico Oddio Fammi scavare un buco Perché qua Rischio troppo Veramente Rischio Tantissimo Mamma mia Guardate che fine Che ho fatto Oddio Non ci ho più pensato Ragazzi Che stavo andando troppo avanti Adesso qua Veramente sono messo male Prendo giusto il ferro Perché mi serve E ho lo spazio Per il ferro Però devo Cercare di pensare Allora l'asino Non lo uccido Ovviamente Lo lascio qua vivo Però devo Pensare E come Scappare di qua Allora Ti lascio le mele Le uova Qua non ci sono mob Vero? No Ti lascio Mi prendo il diamante Gli smeraldi Che mi servono Ti lascio la pelle Il libro me lo devo prendere Ti lascio il legno Prendo le carote Posso i semi Beh no I semi no Posiamo qualcosa di Più inutile Tipo questo La fornace La piglio Ti lascio gli alberelli Cos'altro Direi basta No direi che mi prendo Anche la spada Perché questo cosa Si potrebbe rompere E la metto al posto Di 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 cosa Non lo so ragazzi Del legno Ok E mi prendo anche Mi prendo anche Cos'altro Basta direi Si il resto te lo puoi tenere Eh beh ma se io prendo questi Ragazzi Proprio per E Posso Posso Ma no li lascio Tanto ce li ho Vediamo poi Come sono messi Scendiamo un secondo Eh si ragazzi Questa è veramente Una situazione del Cavolo Ai 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 Ok Facciamo così Perfetto Niente Caro Sinello Io ti lascio qua E Niente Adesso risalgo Così Oddio ragazzi Dovo viaggiare un bel po' Adesso devo scegliere cosa fare Perché Praticamente vi spiego Cosa è successo Sto cercando la giungla Come un mongoloide Non ho ancora trovata Eh Il cibo Spero che mi basterà Perché comunque Sarà anche un problema quello Oddio Oddio Stammi lontano Schifoso Creep Del cavolo Oddio Ragazzi Se ci lascio le penne qua Posso dire Addio Tutto quello che ho Nel inventario Eh no Sono veramente Troppo lontano Il problema è questo Ragazzi Sono troppo lontano E non ho ancora trovato La giungla Pensavo che In 5.000 blocchi Di giungla Ne avrei trovato 7.000 Invece no Non ne ho trovata Neanche una a morire Ragazzi Questo Dove sono adesso Penso che sia un doppio canyon Sì È un doppio canyon Che si incrocia Oddio Che cavolo di posto è Guardate Ci sono troppi minerali C'è di tutto Allora mi servono dei blocchi Per risalire Ho tanta sabbia in inventario Anche perché Mi serviva Appunto L'ho cercato di prendere Qua un po' di ferro Me lo piglio Ma giusto per Anche se qua Ci sarebbe tanta roba da prendere Ragazzi Credetemi Incredibile Penso che sia uno dei canyon Più assurdi Che l'ho mai visto Non penso È Lo è Perché ha miniera Tutto incorporato Cioè tutto quanto In sé E E adesso qua Risalirò E sono due canyon Incrociati Con tanto di miniera All'interno Sì Decisamente una cosa Particolare Non so come ho fatto A sopravviverci Perché presente Sono caduto E sono volato dritto Nell'acqua Ho avuto Un culo Assurdo Ecco adesso infatti Stavo giusto per morire Proprio perché ho detto La parola culo Ok Risaliamo ragazzi Mamma mia È un rischio È un bel rischio Questo Mamma mia ragazzi Una delle situazioni Peggiori di questa serie Credo che sia No Non credo È sicuramente Indubbiamente Senza dubbio La situazione peggiore Che l'abbia mai vissuto In un mondo di cubi Oddio Adesso sono A 5000 blocchi E credetemi Che sono tanti 5000 blocchi Da casa Non ho ancora Ecco c'è un altro canyon Tanto per cambiare Oddio Se cado lì Allora Sono 5000 blocchi da casa Sono Senza Niente Senza un cavallo Per andare più veloce Senza nulla Ho un casino di cose In elementare Quindi non posso Neanche Succidarmi Tornare indietro Come faccio Ho le coordinate Sul libro Però il libro ce l'ho No? Sì il libro ce l'ho Potrei tornare indietro piedi L'unica soluzione L'unica soluzione è quella Però vorrebbe dire Perdere tantissimo tempo E con tantissimo Intendo veramente tanto Ragazzi Soprattutto la giungla Non si trova Io voglio andare avanti Tornare sta giungla Non posso mollare adesso E tornare indietro Io finché non trovo sta giungla Non posso tornare indietro Oddio ragazzi Credo che Dovrò fare un altro stacco E dovrò camminare ancora Per molto Per trovare questa giungla Sì per molto tempo Per molto cosa Per molto tempo Ragazzi oddio Sono veramente In coma Da questa cosa Non so Sono spaisato Non so cosa fare ragazzi Ditemi voi nei commenti Cosa fareste Perché io Sono messo veramente male Di sicuro In questo episodio Non torneremo a casa E non torneremo neanche Al villaggio Se per questo Penso che siamo Veramente lontani Da ogni forma di vita Devo trovare assolutamente Un cavallo Perché ho una sella E penso che la sella Mi parerebbe il sedere Oddio Mamma mia Adesso ragazzi Qua siamo messi Veramente male Eh sì Devo per forza Fare uno stacco Qua le terre Pughe non si generano Perché Sono nuove Nuove generazioni Spiego Solito Da dei cavalli Ragazzi Spiego Solito Da un cavallo Perché altrimenti Indietro Ci torno Con le preghiere Ok ragazzi Quindi faccio Questo stacco Non dico Piccolo stacco Perché non sarà Un piccolo stacco E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Eccoci Prima di Cominciare a spiegare Cosa è successo Ammazzo Quell'asino Perché non è di Questa pianura Quell'asino No Dove vai Vieni qua Che ti devo Ammazzare Muori Lurido Schifoso Perché Quest'asino È l'unico Animale Che ho trovato Nel mio Tragitto Per andare Indietro E Appunto Ho trovato Solo Questo Schifosissimo Asino Che andava Tra l'altro Pure pianissimo Mi ha fatto fare Ho fatto circa Qualche migliaia di blocchi Con lui E andava pianissimo Mi sono veramente Cadute le palle A stare con Quell'asino E E poi niente Io continuavo ad andare in giro Con quest'asino Ma la giungola Non la trovavo Non l'ho trovata Neanche tuttora Però dopo un po' Ho girato a destra Ragazzi Sono andato per un po' A destra Dopo un po' Ancora Ho detto Ma si adesso Giro di una a destra Senza pensarci Perché io Andando dritto di qua Girando a destra Quindi andando di qua Ma girando a destra Vado di là Quindi Cosa è successo Che io senza rendermene conto Sono tornato a casa Sono arrivato dalla mesa Arrivato dalla mesa Ho detto Oh cavolo Sono Ho trovato un'altra mesa Non ho trovato nemmeno La giungla Non è possibile E davvero Stavo sclerando malissimo Ragazzi Non capivo più nulla Poi mi sono accorto Visto che c'era una torcia In quella mesa Che lì io mi ero spawnato E quindi Ho cominciato a capire Che mi stavo avvicinando a casa Sono arrivato a casa Ho posato tutta la roba E con quell'asino Sono tornato qua Appena sono tornato al villaggio Appunto Ovvero adesso Ho ammazzato quell'asino Ho riaperto finalmente La registrazione E Non so se avete visto Le clip Degli altri Dei paesaggi Che mi sono Capitati davanti Paesaggi bellissimi Che ho registrato Tutti quanti Ovviamente Però E non ho trovato La giungla Ho elaborato quindi Una specie di Non strategia Di teoria Che però Che appunto Vi spiegherò nel prossimo episodio Con questa Con questa cobblestone Ma Prima di appunto Spiegarvela Voglio aspettare il prossimo episodio Perché voglio informarmi Un po' di più Anche su internet E capire se La mia ipotesi Appunto È giusta O sbagliata E capire perché Non trovo la giungla Comunque ragazzi Adesso sto girando Con questo cavallo Come non so cosa Perché veramente Odiavo Quell'asino Asino Io vi odio E niente Adesso girerò E nel prossimo video Vi spiegherò Perché appunto Non trovo La giungla Credo che sia Un errore Della generazione Del nuovo tipo Di generazione Ma Adesso ve lo spiegherò Nel prossimo video Perché veramente Ragazzi Vi dico solo Di registrazione Di questo video E di lavoro Off camera Ho passato davanti Al computer Quattro ore E mezza Voglio ancora Registrarvi la exit Perché la volete Vedo che vi piace Quindi ve la registrerò Però veramente È una cosa devastante Ragazzi È veramente una cosa Devastante Quindi penso che Adesso staccherò Un mondo di cubi E vi registrerò La vostra exit Che volete vedere E niente Poi andrò a dormire E dormirò Per tutto il giorno Oddio ragazzi Comunque Appunto Io vi invito Come al solito A lasciare un like Per le quattro ore e mezza Non ve lo devo neanche più dire Perché Ormai ragazzi Vedo che i vostri commenti I vostri mi piaci Sono sempre di più Vi voglio ringraziare Per tutti i mi piaci Per tutti i commenti E anche per le iscrizioni Perché siamo a 600 eventi Ragazzi Continuiamo a crescere E sono veramente Molto contento E niente ragazzi Quindi io Come al solito Vi ringrazio Sono contento Di questo Di questa crescita Del canale Anche di questo Di questo episodio Perché comunque dai Abbiamo trovato due cavalli Che vedremo poi Nel prossimo episodio Con le carote Faremo delle cose assurde Li faremo riprodurre E faremo dei cavalli Uber power Ragazzi Poi ve li farò vedere Comunque I bando le ciance Per questo video è tutto Ragazzi Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti